Io e Emanuele siamo fratelli per lavoro, ma siamo anche compagni di disciplina, ci siamo conosciuti tanti anni fa allenandoci insieme, non siamo realmente fratelli di sangue, però lo siamo per disciplina. Qual è questo spettacolo preferito da fare, cioè, qual è la recita che vi ho avuto? A me personalmente è questa. Anche perché è l'unità che facciamo, che ripetiamo da ormai tre anni, quindi noi siamo stati assunti solo ed esclusivamente per fare questo spettacolo, perché la compagnia è una compagnia di teatro che però ha voluto sperimentare uno spettacolo di danza, appunto incentrato sulla breaking, servivano due ballerini come noi, anche se la compagnia nella fattispecie è specializzata nel teatro recitato. Quindi sia teatro che black dance? Black dance, sì esatto. E da quanto hai lavorato? Da poco? Ma sono quasi due anni ormai che dura questo sodalizio, diciamo. da quanto lavorate? Da tantissimo, da quasi vent'anni. Io e Manuela si chiama l'altra persona. E Manuele, Manuele. E lavoriamo così da quasi vent'anni. Ma avete sentito tanto tirato? Sì, facciamo spettacoli per bambini, ragazzi. Sì, 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 sono in teatro. Siamo stati realistici. Siamo stati realistici. E anche loro. Grazie. Grazie mille. E poi che cosa ti volevamo? Che hanno interpretato le emozioni come se fossero? Come se fossero veramente... veramente veri. Eh, come si... Provando davvero. Grazie mille. Grazie mille. Bene, bene. Bene. Ehm... 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 Basta? Bene, bene, grazie.